Pinocchio, dove stai scappando? Torna subito qui! E tu, che sei il più somaro di tutti, cosa vorresti? Io, Fattina, lo sai, vorrei tanto diventare un bambino vero! Non se ne parla, ti sei comportato davvero asino! Progetta e con le idee pronte, a Caffaro tu vai e costruisci il terzo ponte! E diciamo che questa è proprio una di noi, dove si sa, a storo, chi nasce quadrato, vuole inquadrato! E poi è la mia, 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 la mia! E poi è la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia! Grazie! Vi aspettiamo qui tra 15 minuti! Voto, voto, voto! Prostimo spettacolo tra 15 minuti! Vento già!